Non poteva essere che la Casina Valadie di Villa Borghese è la splendida location dell'after party del Vogue Fashions Night Out di Roma, una festa esclusiva popolata da molti VIP, tra i quali si sono viste Samia Abari e Fannicadeo. Momento esclusivo nel quale parlare della notte dedicata alla moda che ha riempito le strade della capitale. Tra gli appuntamenti sicuramente ha colpito l'originalità di Vanessa Foglia per Abitart, dove l'abito carillon è simbolo della colorata collezione Fashion Circus ispirata al mondo del circo, con quel tocco di mediterraneo tipico dello stile della stilista. Noor a Via del Babuino ha giocato col pubblico con Play with Noor. Le sagome dei modelli erano a disposizione per le clienti per farsi fotografare e vedere subito se l'abito è quello giusto. A Via Margutta, invece, tra lettura delle carte e lanciatori di fuoco, la Galleria Vittoria ha ideato insieme allo stilista Franco Ciambella la mostra all'arte va di moda, che presenta opere d'arte realizzate elaborando alcuni capi di abbigliamento, mostra visibile fino al 17 settembre.